buongiorno a tutti lo storia d'altrove di quest'anno ci riporta ai tempi della fondazione di altrove ed è sui primi agenti rivedremo benjamin franklin thomas jefferson ma soprattutto la storia è su george washington qui quando era appena diventato presidente degli stati uniti la storia ha a che fare con un momento particolare della guerra di indipendenza nei momenti della battaglia di valley forge 1778 era un momento molto cruciale per la guerra momento disperato le truppe erano affamate erano in freddo lì l'inverno e la scarsità di razioni le avevano fiaccate washington si era ritirato in un boschetto a pregare e lì ricevette una visione un essere di luce che gli annunciò il futuro che gli fece vedere che avrebbe vinto la battaglia che avrebbero vinto la guerra e che la nuova nazione che sarebbe nata avrebbe prosperato e la creatura gli fece vedere anche immagini ancora più avanti nel futuro immagini di quella che sarebbe stata la guerra nella civile la guerra di secessione immagini di quella che forse poteva essere la seconda guerra mondiale e immagini ancora più avanti di quelle che sarebbero state forse altre battaglie ancora che neppure conosciamo ma questa forse è soltanto una leggenda forse